Volevo raccontarvi una storia di qualche anno fa. Avevo il compito di andare a ritirare un esamisto logico. Dottoressa, gentilmente, mi può spiegare questo referto? Perché effettivamente non lo capisco. Lei lo legge, mi guarda, mi fa, ma mi scusi, chi è Stefano? E faccio, ah, Stefano è mio figlio. Un neo si era trasformato in melanoma. Partirono tutta una serie di visite. E in quei giorni Stefano, galvanizzato, veramente rinfrancato dagli esiti di queste cure, che per quanto dure fossero, comunque davano dei risultati importanti, mi esternò il desiderio di fare un video nel quale si potesse portare a conoscenza uno, di non sottovalutare assolutamente i nei, e due, di raccontare questa storia per cercare di farla viaggiare il più possibile, perché le persone potessero conoscere quello che può succedere, magari trascurando un neo. e mi ricordo che andai proprio a comprare questa camera che effettivamente non fu usata molto, non fu usata molto, ma è carina come ricordo, perché il suo desiderio era proprio quello di cercare di sensibilizzare le persone affinché i nei non venissero, non venissero a trascurare. Quando sei qui con me, le metriche cercano parole per dirti che tu per me sei il sole, ma troverò l'amore che ho e che non mi fa più dormire.